Sarebbe stato molto più facile scendere senza maschera, ti avrei dato un impatto visivo che non ho problemi a dare, cioè non mi vergogno di come sono fatto, non ho cicatrici strane o cose strane, però in questo momento ci separano due metri e quindi ci sono tante cose che non potremmo comunque fare. Finora io ho dato delle cose e tu hai dato delle cose a me, nel senso che tu mi hai dato la voglia di tirare fuori delle idee, di tirare fuori delle cose, di pensare, la voglia di pensarti, che non è banale, non vuol dire che sono innamorato di te o che tu sei innamorata di me, ma vuol dire che c'è un qualcosa che la sera ti fa andare a letto e dire cosa posso fare per arrivare a una persona che non mi conosce e dopo che inizi a conoscerla, cosa posso fare per farle capire veramente chi sono e questo perché mi piace quello che mi dà indietro. Quindi fino adesso c'è stato un percorso, te l'ho detto, abbiamo costruito una strada completamente nuova. Venire qua e farmi vedere oggi vorrebbe dire svilirla un po', perché sicuramente far vedere il mio volto, la mia parte estetica condizionerebbe il passato e il futuro. Grazie.